Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Lucignano attorno alle 16.30 all'interno di un'azienda che produce macchine per lavori sulle infrastrutture ferroviarie. Un macchinario ha colpito due persone ferendole sul posto i sanitari del 118 e gli ispettori del servizio prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. I due feriti sono due uomini di origine straniera di 41 e 25 anni, entrambi residenti in provincia di Perugia. I due sono stati portati in ospedale al San Donato di Arezzo in codice giallo per trauma cranico e un trauma ad un braccio. I due stavano saldando un carro ferroviario quando si è sganciato colpendoli.